Tartarughe Ninja della IDW numero 15, due storie segrete dei nemici più letali delle Tartarughe Ninja. Wabalaba dardabe, bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Tartarughe Ninja. Oggi parliamo della mia sempre retrospettiva settimanale, quando me lo ricordo, su i numeri della IDW, editi in Italia da Panini Comics, all'epoca anche in edicola e oggi solo in fumetteria e librerie specializzate. Non temete che a breve dovrebbe uscire anche una ristampa, chiamiamola così, dei numeri che vi siete persi. Doveva già essere uscita, ma probabilmente uscirà a settembre, salvo nuovi cambiamenti. Quindi stringete i denti che dovrebbero uscire i nuovi numeri con un primo tomo in formato cartone della pizza. Quindi sarà anche una bella confezione per collezionisti. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace questo video anche a tutti gli altri, che vi frega di condividere il video con tutte le persone che hanno un guscio e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo video e di questa storia a questo punto. Anche se devo dire che questo numero, e penso anche il prossimo, fondamentalmente li possiamo un po' considerare dei filler alla storia principale. Questo perché, se voi andate a vedere nella seconda copertina, sono presi, sono ispirati a Teenage Mutant Ninja Turtles Villains Micro Series numero 1 e Teenage Mutant Ninja Turtles The Secret History of the Food Clan numero 1. Quindi fondamentalmente è come se fossero due storie spin-off messe insieme in questo albo italiano e raccontate. Mi aspetto che nel prossimo numero ci sarà la seconda parte di entrambi. In questo numero, appunto, c'è una prima parte dedicata a Krang e una seconda parte dedicata alle origini del Clan del Piede. E vi ricordo che questo Clan del Piede, di questa versione, è del Giappone feudale. Per quanto ne sappiamo, anche il Clan del Piede originale poteva avere origini nel Giappone feudale, però ci tenevo a ricordarvelo. Fondamentalmente la storia di Krang ci mostra come questo, appunto, questo Utrom di nome Krang fosse figlio di un generale molto risoluto del suo pianeta, Utrominom, ma proprio perché figlio nato nella bambagia, negli agi, era molto, diciamo, servito e riverito, non aveva mai mosso un dito dal punto di vista fisico, tant'è che era disprezzato da suo padre. Proprio per cercare di guadagnarsi questo rispetto paterno, un giorno si tuffa in una missione, senza che nessuno lo sappia, si tuffa insieme ad altri sottoposti in una missione per spodestare una, diciamo, una fazione nemica agli Utrom, che sono questi esseri umanoidi, fondamentalmente, che avevano aperto una guerra con gli Utrom. Avevano appena liberato da una prigionia questo personaggio di nome Traxos, che era un antico rivale del padre di Krang, che si chiamava Kwanin, e quindi Krang, per guadagnare il rispetto del padre, voleva in qualche modo, non so se era la sua intenzione di ucciderlo direttamente, o comunque voleva fargli pagare lo scotto subito dal padre anni addietro. Ovviamente finisce malissimo, perché tutti i vari Utrom che sono con Krang vengono sterminati subito da Traxos e Krang si nasconde, si nasconde e inizia a vivere in modo selvaggio finché non si rafforza e diventa risoluto al punto da, vi ricordo che è comunque sempre un cervello umanoide con i tentacoli, quindi riesce comunque in questa sua forma nuda a comandare una bestia locale e a fare un agguato a Traxos. Lo colpisce, lo trafigge con un paletto e gli rompe il collo e in questo modo si guadagna, diciamo, la stima dei suoi sottoposti. Questi sono i sottoposti di Traxos che saranno in futuro i suoi generali di pietra. Ora non so se questa è una razza che con gli anni sviluppa una pelle di pietra oppure nei prossimi numeri vedremo proprio qualche cosa che li muterà in pietra. Questo non ve lo so ancora dire. Fondamentalmente nella cultura però di questa razza chi viene, diciamo, il regnante che viene spodestato diventa il nuovo regnante e di conseguenza Krang spodestando Traxos diventa il nuovo generale di questo pianeta. Con il corpo di Traxos si crea il suo famosissimo esoscheletro quindi la testa di questo Krang, del corpo esterno di Krang che abbiamo visto finora altri non è che il cadavere del suo antico nemico. Pensate un po' quanto è folle Krang. Con questo onore ritrovato si ritrova con suo padre Kuan Yin e nasce fondamentalmente questo rispetto verso il figlio Krang e poi vedremo più avanti nel prossimo numero come si svilupperà questa famiglia di Uthrom. Mentre nella seconda parte del numero appunto parlano di questo clan Yu. Non so onestamente se è un riferimento storico realmente esistito a un clan del Giappone feudale oppure è tutto inventato. Non sono stato a indagare, non è importante. Fondamentalmente qua nella finzione delle tartaruga ninja spiegano che il clan Yu a un certo punto è scomparso e ha cambiato nome in clan del piede. E qua spiegano perché. Fondamentalmente c'era Ashigaka Yu che era appunto il capo clan che tra i suoi accoliti aveva questo personaggio che si chiamava Takeshi Tatsuo ed era uno dei suoi sottoposti, delle sue guardie d'onore ma era tra le più pericolose al punto che lo stesso Yu aveva paura di lui e gli tese un agguato per levarlo di mezzo. Un agguato in cui gli scagliò contro un intero esercito. Ciò nonostante Tatsuo riuscì comunque a sgominare questo esercito ma appunto rischiando di morire per le ferite subite da comunque tutte le persone che gli sono andate addosso venne salvato da una figura che noi non vediamo, vediamo incappucciata che poi si rivelerà essere la strega Kitsune la strega dalla forma di volpe che non è Alopex è proprio un altro personaggio. Vediamo che tutto questo viene spiegato dal Dr. Miller nel tempo presente in modo che si ricongiunga comunque alla storia principale delle tartarughe ninja fondamentalmente April, Casey e le tartarughe stanno valutando di contattare il Dr. Miller perché sembra un esperto appunto del clan del piede. Ci mostrano come Takeshi Tatsuo appunto divenne un leader impavido di questo nuovo rinomato clan il clan del piede e mette a ferrefuoco tutto il Giappone feudale eliminando tutti i clan rivali e i clan nemici. Scopriamo anche che la strega Kitsune in un certo senso consigliava, guidava, manipolava Takeshi Tatsuo perché a sua volta lavorava per un demone di ferro noi non sappiamo cosa intendono con demone di ferro ma fatto sta che la strega Kitsune riuscì a tenere in vita Takeshi Tatsuo aiutata da questo demone di ferro prima curando le sue ferite e poi prolungandogli in modo innaturale la sua vita mensilmente Takeshi Tatsuo beveva uno strano elisir verde che gli prolungava l'esistenza vediamo proprio in questa tavola che succede questa cosa tra i vari seguaci di Takeshi Tatsuo ecco vedete come il piatto si continua a girarsi e rigirarsi quindi abbiamo un nobile leader un Chunin fuori di testa che spodesta il leader il clan diventa fuori di testa abbiamo un Chunin molto morigerato che vuole spodestare il capo clan fuori di testa ecco questa ridondanza di avvenimenti sempre uguali e opposti non è che mi piaccia molto come racconto per quello dico secondo me è un filler un po' inutile però per carità è carino anche approfondire un po' la mitologia di questo mondo fatto sta che c'è il Chunin di Takeshi Tatsuo che si chiama Oroku Magi ovviamente il nome è familiare Oroku Magi pare essere un antenato magari di Oroku Saki non c'è dato saperlo in questo numero lo scopriremo nel prossimo fatto sta che sotto la guida di Oroku Magi il clan del piede tornò a un rinomato onore e rispettitudine vabbè quella cosa lì ci siamo capiti insomma ecco quindi sono curioso di vedere cosa succederà nel prossimo numero anche se mi aspetto qualcosa di ovvio ovvero che dopo Oroku Magi ci sarà Oroku Saki che appunto sappiamo cos'è successo sarà un allievo del clan del piede insieme a Amato Yoshi poi ci sarà questa loro rivalità eccetera 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 andremo un po' a vedere però sono sicuro che ci sarà qualche complicazione ancora maggiore quindi spero di avervi un pochino riassunto questo numero che magari non aggiunge nulla alla storia principale però è bene parlarne perché potrebbero tirarlo fuori dal cilindro tra qualche numero io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video che sarà martedì no, mercoledì su Samuel Stern dove appunto parleremo dell'uscita mensile di Samuel Stern e la sera, mercoledì sera alle 21.30 su Twitch ovviamente ci sarà una live in cui faremo una tier list di tutti i Samuel Stern usciti finora sono 30 quindi è molto più facile che con i Dylan Dog ci sarà Luca DJ, il canale di Kuro e anche altri ospiti di cui vi farò sapere nella scheda Q-Munity e poi seguiteci in diretta e lo scoprirete arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti